Ciao a tutti, in questo tutorial vi parlo di green screen, come realizzarlo e come illuminarlo, come posizionare il soggetto e come poi procedere con After Effects per scontornarlo. Allora, la prima cosa fondamentale per avere un buon green screen è l'illuminazione. Molti cercano di fare green screen con una lampada oppure addirittura senza luci e poi non riescono a scontornarlo. Allora, l'idea di fondo è che sul telo, sul green, non dovete avere assolutamente ombre, non ci devono essere ombre o le meno possibili, perché il problema poi quando si cerca di scontornare è che l'ombra difficilmente viene via, poiché cambia il colore in maniera troppo grande rispetto al verde del green. Quindi l'idea è di illuminare il green screen in maniera piuttosto forte, come vedete dallo schema qui ci sono due luci che illuminano il green, in modo tale da posizionarle per non avere ombre di nessun tipo. Un'altra cosa importante è l'illuminazione del soggetto. Cercate di illuminare il soggetto se avete lampade sufficienti da entrambi i lati, se no anche una lampada sola è più che sufficiente. Però mettete un softbox che può essere, se avete una lampada da studio fotografico, già col softbox siete a posto, oppure prendete della carta forno, posizionatela davanti in modo tale che ammorbidisca la luce, non crei ombre nette sul soggetto e soprattutto l'intensità diminuisca leggermente rispetto alle luci che illuminano il green. Avendo una luce leggermente inferiore rispetto al green e con ombre morbide, non proiettate l'ombra del soggetto sul green. Quindi avrete sempre un green staccato dal soggetto. Indicativamente una buona illuminazione prevede per il green due lampade da 500 watt e per il soggetto altrettanto due lampade da 500 watt. Essendo softboxate, queste lampade da 500 watt scendono notevolmente come capacità lux. Questa è più o meno per una corretta illuminazione. Una volta che avete illuminato correttamente il green, il risultato che dovreste avere è una cosa di questo tipo. Allora, come vedete il green è illuminato abbastanza bene, il soggetto è illuminato bene e non proietta ombre sul green. Fatta questa operazione con After Effects possiamo usare il suo plugin di base che si chiama Keylight e possiamo procedere a estrarre la matte, cioè il contorno del green screen. Allora, prendiamo lo screen color. Selezionate un colore del green perché se voi guardate non è un verde sempre uniforme. Scegliete un green più o meno uniforme che rappresenti una metà tra il più chiaro e il più scuro. Allora, vedete già che ha tolto. Ora dobbiamo andare a migliorare queste zone. Come si fa? Innanzitutto cambiamo la view da final result a screen matte. Ok. Questo è più o meno quello che abbiamo tolto selezionando questo colore. L'idea è quella di avere il fondo completamente nero e il soggetto completamente bianco. Allora, la prima cosa da fare è aumentare un po' il gain. Questo risolve molti problemi. Ora se guardate vedete che avete qualche piccolo elemento qui e sicuramente qualche piccolo elemento sul black. Per eliminare queste situazioni entriamo nella screen matte e dobbiamo toccare i valori che si chiamano clip black e clip white. Aumentando il clip black miglioriamo la situazione sui neri. Vedete? Là. Tagliando il clip white miglioriamo la situazione sui bianchi. così ci siamo ok se avete comunque qualche piccolo piccola imperfezione ancora potrebbe essere il colore che avete scelto di verde allora dovete resettare io per esempio non sono convinto di questa selezione di verde ritorniamo su source prendo un altro punto di verde questo ora faccio il sono su screen matte un'altra cosa da fare è questa una volta che avete selezionato e tagliato bene potete modificare lo screen softness che addolcisce un po' i bordi vedete? e migliora anche con le situazioni di puntini che dicevamo prima anche perché in maniera perfetta difficilmente riuscirete a estrarlo dopodiché andiamo su final result una caratteristica dei green screen è lo spill qualunque oggetto voi andate a registrare in realtà quando è colpito da un raggio di luce riflette la luce a sua volta se siamo in un ambiente dove c'è una predominanza di un colore in questo caso verde quindi la luce colpisce il telo verde rimbalza e colpisce comunque il soggetto da dietro avrete un effetto che si chiama spills cioè i bordi del soggetto si colorano leggermente del colore del green si deve togliere questa cosa se esagerata con il despeel come si toglie? si seleziona il colore più vicino al soggetto da riempire in questo caso il rosa può capitare questa operazione vuol dire che abbiamo scelto un despeel sbagliato prendiamolo da un'altra parte quando capita questa cosa assicuratevi di cambiare il replace method da soft ad art color andiamo a vedere un altro punto dove potrebbe esserci the speed ecco forse qua ecco fatto ora dovrebbe essere the speed come vedete non ci sono più i riflessi verdi per testare la qualità del del vostro scontorno prendete un'immagine piazzatela sul fondo io prendo questa se il vostro soggetto è scontornato bene non ci sono allora un'altra cosa importante poi quando fate green screen assicuratevi che l'illuminazione del vostro soggetto sia corretta e poi cercate di inserire il soggetto nella scena del fondo in questo caso io utilizzerò le curve la scena dietro è molto più contrastata quindi contrasterò di più la mia e ha una carenza di rossi rispetto alla mia quindi andrò a togliere un po' di rossi dalla mia scena ha una predominanza di luci gialle ecco qui tolgo anche un po' di blu dei mezzi toni più o meno così questo è il soggetto più integrato all'interno della scena questo è il metodo per ottenere un buon green screen con gli strumenti base di After Effects grazie a tutti per aver seguito il tutorial e alla prossima ciao ciao grazie a tutti